Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi siamo tornati con un tutorial del quale vi avevo accennato in live difatti è da ormai qualche settimana che sto utilizzando secondo me una combo di skill molto molto sottovalutata che ho rinominato per ridere Riberovski Special, visto che la faccio praticamente, vi giuro, solo io non mi sembra di averla vista utilizzata a molti player, anzi praticamente a nessuno ma credo sia veramente devastante l'andiamo a vedere ovviamente, lo sapete, in game con il pad da schermo, quindi siamo su play dopo avervi fatto vedere come la vado a performare, quali sono le situazioni dove secondo me è giusto utilizzare questa combo vi lascio anche quelle che sono alcune clip che ho estratto direttamente da mie live in maniera tale che vedete effettivamente in partita come la vado a utilizzare ho pensato che potesse essere un modo interessante per, diciamo, rendere un po' più completo quelli che sono i tutorial invece di farvi vedere semplicemente come si esegue materialmente in Squad Battles insomma così la vedete all'opera bene, quindi rapidissimo cambio di scena, vi vado ad attivare il pad della play eccolo qua, che dovrebbe comparire a breve, esattamente allora, questa combo si va a comporre di due momenti premetto che abbiamo bisogno di un giocatore con 5 skill perché la fanno solo i giocatori con 5 skill dopo l'ultima patch e si compone appunto di due parti la prima comprende il fare un ball roll che conosciamo tutti, quindi il semplice tocco di suola che si fa o così o così insomma, in base a dove siamo un movimento che può essere laterale sopra, sotto, insomma non ci stiamo inventando niente penso il ball roll sia una delle finte più facili in assoluto e la andiamo ad unire al scoop turn finta di tiro che sappiamo si fa con L2 più la finta di tiro ovviamente dipende dai contesti qua non me la prende, ve la faccio vedere direttamente in combo perfetto quella che è appunto la combo è andare a utilizzare queste due skill concatenate in una rapidissima frazione di secondo vi faccio vedere guardate, noi stiamo andando ad esempio in questa direzione faccio il ball roll e poi subito lo scoop turn che è questo qui guardate con quanta rapidità il giocatore muove il pallone ve la faccio vedere ancora una volta guardate, io ad esempio sono qui, sono qui ball roll, scoop turn ball roll, scoop turn guardate la rapidità con la quale la palla soprattutto rimane attaccata ai piedi del giocatore e gli usi sono molteplici sono molteplici perché ad esempio io la utilizzo quando ho un giocatore a strettissimo contatto faccio ball roll se magari il giocatore delle squad battle mi lascia fare i miei tutorial benissimo faccio ball roll più scoop turn subito per cambiare guardate la palla come rimane attaccata ai piedi del giocatore e posso partire prendo velocità che è una bellezza guardate ancora ball roll, scoop turn posso anche cambiare direzione velocissimamente infatti questo è uno degli scenari ideali oppure magari sono qui e posso tornare indietro guardate qua quanto ho mandato al bar il difensore che questo, vabbè, controllato la CPU ma vi assicuro accade esattamente anche per i giocatori controllati ovviamente dagli utenti che non se l'aspettano una cosa del genere magari siamo anche in questa zona qui boom, ball roll più scoop turn per girarmi faccio finta di andare verso fuori invece mi faccio un ball roll boom, scoop turn mi giro e posso girarmi per tirare oppure sto andando in questa zona magari posso girarmi e rientrare così e avere il tiro libero quindi è una skill che secondo me è veramente molto molto utile per disorientare l'avversario e girarsi rapidamente avendo subito il pallone a disposizione guardate, ve la faccio vedere un'ultima volta guardate come si gira rapidamente e salta l'avversario cambiando direzione con una precisione incredibile la palla sembra praticamente scivolare sul terreno di gioco ed è una skill facilissima l'unico problema è che bisogna avere i giocatori con 5 di skill ma insomma ormai credo che almeno uno nelle vostre squadre ce l'avete soprattutto in quelle che sono le zone un po' più calde insomma per poter performare questa skill sicuramente avete i giusti interpreti dopo avervela fatta vedere così all'opera ve la faccio vedere anche anche in game quindi prima di lasciarvi a quelle che sono le clip del che ho registrato durante la weekend league vi inizio a salutare vi ricordo di commentare lasciare like e iscrivervi al canale che stiamo crescendo bene e nulla raga fate bravi e vi lascio alle clip alle clip registrate in WL per il resto ci vediamo al prossimo video raga ciao ciao bravo devi viaggiare si bravo marcus bravo marcus vabbè sono mongolo grazie a tutti Grazie a tutti.